Smart Working, estensione dell'obbligo della certificazione verde in partenza dal 15 ottobre, fa bisogno e criticità del personale. Sono i temi emersi durante l'assemblea delle sigle sindacali FPCGL, CISLFP, UILFPL, a cui questa mattina ha preso parte il personale del Comune di Pesaro. Il tavolo arriva a distanza di qualche giorno dalle dichiarazioni del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il quale, proprio in riferimento al lavoro agile, ha parlato di una minor produttività da parte della pubblica amministrazione e della necessità di riportare l'attività lavorativa in presenza. Affermazioni criticate dai sindacati, i quali hanno invece evidenziato le carenze e le problematiche dell'ente, riportate anche nell'incontro odierno dai dipendenti, tra le quali spicca la necessità di aumentare il numero delle assunzioni. Ovviamente si è partito dalla dichiarazione che ha fatto il sindaco rispetto alla produttività del Comune. I dati che sono emersi sono dati drammatici e richiamano una situazione appunto che denunciamo da alcuni anni e cioè che il calo occupazionale nell'ambito del Comune di Pesaro rischia di mettere a repentaglio la possibilità di fornire dei servizi di cui i cittadini, soprattutto durante e dopo la pandemia, hanno più bisogno. Non si è mai toccato un aspetto economico, questo ci tengo a dirlo. Tutti i dipendenti che sono intervenuti, tanti, abbiamo poi dovuto attrezzarci per fare anche la forma online, hanno rivendicato la necessità di più assunzioni e di una programmazione nelle assunzioni perché spesso chi va in pensione non viene sostituito e quando viene sostituito viene sostituito dopo mesi e questo non consente di avere la formazione necessaria per poter continuare a garantire la qualità di quel servizio, per dare continuità. Siamo rimasti molto sorpresi dell'uscita pubblica che praticamente criminalizza con dati falsi, con disinformazione e con luoghi comuni un'intera categoria senza entrare nel merito dei dati. Nella riunione di oggi sono venuti fuori altri dati che evidentemente il sindaco non conosce, ci sono dati di gente che ha dato risposte importanti durante la pandemia nonostante sono in carenza di organico e questo andrebbe un po' verificato, invece si preferisce appunto attaccare generalizzando la categoria dei pubblici dipendenti che offrono servizi pubblici per tutti i cittadini. I servizi che vengono o esternalizzati o privatizzati abbiamo visto anche recentemente producono due risultati, aumentano i costi e peggiorano i servizi. Quindi invece di denigrare la propria amministrazione forse andrebbe bene confrontarsi per capire come si può migliorare il migliorabile e ringraziare però anche pubblicamente la gente che il suo l'ha fatto in condizioni difficili, in carenza d'organico e rispondendo sempre alle esigenze dei cittadini. Le dichiarazioni rilasciate dal sindaco sullo smart work hanno aperto un vespaio. Ovviamente lo smart, lo ricordiamo, è uno strumento che è stato necessario durante il periodo della pandemia, che era stato individuato dal governo con un decreto, ma nel comune di Pesaro, diversamente da quello che il sindaco dice, innanzitutto va detto che alcuni servizi e alcune persone hanno lavorato sempre in presenza e gli altri già a partire più o meno da giugno si sono ridotti al 15%. L'argomento focale è che non sono mai stati chiusi i servizi, i servizi sono stati sempre garantiti, si è tornato e questo è vero, ma lo smart working prevedeva questo e la cosa che ci dispiace, visto che lo smart diventerà poi un istituto contrattuale, stiamo aspettando che a livello nazionale venga inserito proprio nella contrattazione, che poi riserveremo anche a livello locale, lo smart debba essere un'occasione, un'opportunità per non tornare nel medioevo, ma far fare alla pubblica amministrazione quel salto necessario. Il tema del Green Pass, sì, ora poi aspettiamo l'incontro del 5 di ottobre per capire meglio come intendono poi applicarlo per quella parte di personale che non è stato interessato finora dalla modifica normativa, perché noi abbiamo anche il settore delle scuole, degli educativi che già ha per norma l'obbligo del Green Pass, su quello aspettiamo anche delle linee guida nazionali perché ci sarà la necessità di controllare, noi chiediamo che comunque i tamponi che sono uno degli strumenti uniti al vaccino per poter avere il Green Pass siano garantiti a carico dell'ente, proprio perché un costo indispensabile per poter esercitare il diritto al lavoro non deve ricadere sul lavoratore, ma deve ricadere sul datore di lavoro.